Salve a tutti, benvenuti in questo programma, in questo programma, in questo programma, e ospita per oggi, visto che è l'ultima puntata dell'ultimo anno, dell'ultimo secolo, dell'ultimo merito, dell'ultima stagione, dell'ultima serie, dell'ultimo seconda, dell'ultimo decimo di seconda, del millesimo di seconda e anche dell'anno, non è vero, ecco a voi i due nuovi ospiti, ecco a voi Pasqua. Buongiorno, cosa vuole? Ma ecco a voi! No, non so perché metti i metti. Ecco a voi, ecco il personaggio! Eccolo! Sono bello! Mi muovo bene! Quanto sono bello!